eeeh, senti che fai, come te l'ho raccontato, me lo porto la macchia con la federa divina amore beh, no, no, sto chiedendo praticamente c'era un piccadizzo che ha fatto un incidente, ha distrutto la macchia nuova, eeeh eeeh, mi ne so capire di tutto quello ha portato a benedire la macchia, divina amore è uscito come il prete tanto finisci su youtube, lo sai non lo sai, mi dimenticina un po', eeeh no, gli è partita la borsa eeeh, non era abitata bene sopra il corpo ma è vero, eeeh c'è qua c'è qua c'è qua è un fatto realmente accaduto no, vabbè, ma non la vivo con la sistemazione è normale, l'ho parcheggiata sotto casa, no? l'ho portato un po' sotto casa ok, dai, ti hai messo i quattro mattoni i cavalletti ha portato le ruote sopra i fatti sai che mi piace un po' del genere è che a Romani, 10-15 anni fa li bagno per studiare dentro gli stossi era quella quando si portava la radio sopra casa, no? la radio... la valigia era una cosa, andam al mare io, al mezzo mi eri, eeeh, oh, vabbè la portata soltanto era qualcosa di allucinante stava dentro la batteria di una macchina e la radio, una cazzo la batteria la poteria di una macchina mi sape, per collegare lo stereo dalla macchina su la spiaggia quale vuoi? questa era più facile ma poi per la diventarla ci metterò una piaccia della bicicletta ahahahahah e regalo l'altro bimbo donne! è un po' qua comunque hai pulito la... vuol dire, l'hai lavata quindi sto ancora un po' più... no, guarda, si sporca suga allora c'ho tutti i moschini di piccolore, eh? nera no, non ne ero sopra tutte le moschine, c'erano a mio padre ha pulito un po' da uno scorso ha pulito della madre oggi volevo lavare il sinestrino il sinestrino oh, i commentari a me non si fermano vabbè, capivo quando c'ho la butta vecchio non buscati appunto nero viena ieri per andare a tiro con quel cazzo no, ahahahah ah, ma continuiamo la butta vecchia di cavo nininini quello si diceva una macchina no, no c'è nessuno guardava, 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 guardava guardava, guardava che è che gli ha chiamato no, aspetta, sei girato ho fosonato e mi ha fatto segno alla... a scopertire no, no, il nuovo, il nuovo, no, no, no al contrario, io dico no, no, il nuovo, non va toccato lui stava con 10 euro ma 50 euro e non è mona quindi mh questo è mostro mi chiamo adesso una mano per il traio e poi c'abbiamo tutto qui ma io l'ho abitato 30 anni quindi non ho scompato il cliente sulla magliata la magliata la magliata la magliata la magliata la magliata la magliata non è un viaggio lungo dimmi dove hai parcheggiato ci riesci io ma io lo so non devi trovato già io no, no la garbatella qualche ex paziente di mio padre se dov'è loro parla non vedo il vero dopo un attimo mi sono vecchia più il numero di targa il numero di targa il numero di targa via vero 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 è un'etalica è... TIA TARANTON TARANTON 1.5 anzi SP San Paolo 1100 dite se vado PPP? PPP, Ponte Punta Perno no com'è? Francesco, com'è? EG? non ve lo dico dai, è EG tra l'altro io non volevo che ti riconoscesse perchè molte volte ci sono gli scemi ah questo viene da... sempre se vieni a Roma con una macchina largata a Milano o Napoli a Reschiosco anche se vai in Manifosto la macchina largata a Napoli ah io ho sciolto se sei a Roma fa la macchina largata a Napoli se vai a Tanto la macchina largata a Napoli se vai a Milano la macchina largata a Napoli se vai a New York la macchina largata a Napoli se vi raccogli e c'ho proprio le libri tariche no? mi siano scritte yae tarantow tarantow I love tarantow odio tutte le città del mondo no si si